La Sponsalità con Dio. 16 gennaio 2022. Mia piccola Maria, stai certa che ogni governo iniquo nel tempo, decade e precipita. Ugualmente sarà anche per questo di tempo, e di ogni governo malvagio. Ecco. Il brano del Vangelo vi presenta le nozze di Cana, ove io sono presente, presenti i miei Apostoli e la Madre Santissima, proprio per dare rilievo al fondamento delle nozze umane, ma non solo. Esse stesse, sono segno della Sponsalità primaria con Dio. Il Padre Celeste ha creato l'umanità perché vivesse con essa la sua Sponsalità, la sua fusione con l'uomo. Mistero che mette in evidenza i suoi fondamenti santificanti, nell'unità e nella fedeltà al patto nuziale con l'Eterno, che vengono stipulate attraverso l'osservanza alla Sacra Legge, che Egli ha scritto sulle tavole con il sigillo del mio sangue divino, offerto a voi sulla croce, mediante la vostra partecipazione attiva. A cui vi sollecita lo Spirito Santo e ve ne infonde i suoi santi doni. Il Dio è sempre unitivo e fedele all'alleanza data, amandovi, come un giovane ama la sua sposa nei primi tempi del suo entusiasmo nelle nozze. Purtroppo, è l'umanità che rompe il patto, che lo trasgredisce, tradisce e si prostituisce, ad altri dei, pagani, allontanandosi. Allontanandosi e ripudiando il suo Signore, sì che ne vive poi la conseguenza, della tristezza di una desolazione di vedovanza. L'Onnipotente sapeva dell'incostanza umana, della sua fragilità, ma è sempre pronto a riprendere tra le sue braccia la sua sposa che, seppur mancante e infedele, purché pentita, torni a lui, pronto a renderle di nuovo la sua dignità, rendendo di nuovo candido l'abito nuziale che si era imbrattato nel peccato, nel ridarne valore riornandolo con le sue pietre preziose, nei suoi attributi divini, e allacciandola a sé con vincoli di amore, per ricucire ciò che era stato strappato e separato. Per mantenere la vostra sponsalità vi offre la Chiesa, rappresentata dagli Apostoli a Cana, per far sì che essa vi sostenga, per prendere vigore e nutrimento, nei suoi sacramenti, ve ne offre il lavacro dall'errore che riforma all'unione a Dio. È l'uomo che tradisce, mentre Dio è colui che porge continuamente la mano. Ma chi è sempre il fautore di tale separazione se non il demonio, che porta divisione all'unità e rinnegamento alla sua fedeltà? A questo motivo il Dio vi ha donato nella sua presenza anche la Madre Santissima che, se implorata, se pregata, e a lei ci si accosta. Ella intercederà perché possiate tornare a vivere la vostra sponsalità divina. Mi dirà, figlio, non hanno più vino, e così come alle nozze di Cana, compio il miracolo. Dando vino ottimo alla sua mancanza, per dare risalto della presenza vitale di Dio nel matrimonio, darò a chi è mancante dell'amore, di nuovo la bevanda inebriante dello Spirito Santo. Maria è la sua sposa. È la Vergine Madre. Luce di purezza e ogni candore illibato, e nella sua perfezione è unica. Anche Madre perennemente feconda dello Spirito di cui io sono il frutto, che dona quel sangue preziosissimo che lei torna a colmarvi, quando ne foste mancanti in una rinnovata grazia. Nell'essenza della sua fusione Virginia e Materna. La Madonna vi riveste in lei a nuova virginità spirituale. Vi infonde nella sua azione materna, di quello Spirito di cui pur voi potete viverne la fecondità nei suoi doni divini, facendovi materie creative nel vostro difrutto. Maria vi fa tornare e vi mantiene l'alleanza, l'unione, la sponsalità con Dio, vi riconduce di nuovo al talamo del vostro Signore dicendo. Padre, ecco la tua sposa. Vi benedico.